Quest'anno sicuramente dovremmo cambiare qualcosa, ma l'avremo cambiato a prescindere dai play-off di Champions, visto le partenze non brillanti che ho avuto nei tre anni di Milan e nei due anni di Cagliari, quindi quest'anno cambieremo qualcosa per magari farci trovare più pronte subito all'inizio, soprattutto quest'anno dove abbiamo l'obbligo di dover passare questi play-off di Champions. Valuteremo meglio i carichi di lavoro, cercheremo di distribuirle al meglio, magari cercando di essere molto più brillanti all'inizio e magari rischiando di pagare qualcosa durante il corso del campionato e lì dovremo essere molto bravi a riequilibrare e mantenere una condizione ottimale per tutto il campionato. Innanzitutto Stefan, ragazzo che l'anno scorso, fortunatamente per noi, il momento di difficoltà e soprattutto nell'incompleto di giornata ha fatto 16 gol, più qualche gol in Champions, che avesse una flessione era normale, perché un ragazzo di 20 anni che l'anno prima aveva giocato 28 presenze, facendo solamente due gol, l'anno dopo ritrovarsi a trascinare, a essere un giocatore più importante del Milan a livello mediatico, a livello proprio di gestione personale e soprattutto a livello fisico, perché il ragazzo è un generoso, oltre che a livello realizzativo ha dimostrato di avere qualità eccellenti, però è un ragazzo che in campo non si risparmia mai e quindi un calo fisiologico ci stava, ma quando hai a che fare con dei ragazzi giovani che si affacciano per la prima volta a giocare a San Siro nel Milan, che non è uguale che giocare nelle altre squadre, normali hai gli occhi di tutto il mondo puntati addosso e quando, soprattutto uno come Stefano che ha fatto cose straordinarie, ha un momento di flessione, viene subito messo sotto processo e si vanno a trovare dei problemi che non ci sono. Nel calcio di oggi è impensabile giocare con due o tre punte o diciamo tre giocatori, quattro giocatori offensivi che stanno e guardano la partita e quindi quello che ha fatto Stefano, l'anno scorso, per le caratteristiche che ha, è una cosa normale. No, la Juventus quando una squadra vince il campionato credo che è normale che sia così, che rimanga la favorita per lo scudetto, è normale che hanno vinto per due anni, hanno fatto cose importanti in Italia, quest'anno hanno raggiunto anche i quarti di finale in Champions, è una squadra collaudata, una squadra che con i numeri ha dimostrato, soprattutto quest'anno, di essere sul campo la più forte, però il 24 agosto riparte il campionato, quindi partiamo con fiducia sapendo che per arrivare nelle prime tre posti bisogna fare grandissime cose e bisogna sicuramente avere questa grande disponibilità al sacrificio per cercare soprattutto di mettersi a disposizione i ragazzi l'uno con l'altro come hanno fatto dal 6 gennaio quando siamo ripartiti nei cinque mesi del 2013. La mia priorità era quella di rimanere al Milan e ci sono rimasto molto contento, soprattutto perché io con la società, col Presidente, con l'amministratore credo che abbiamo un rapporto quotidiano, anche troppo da tre anni a questa parte, anche troppo. E col Presidente non ho mai avuto nessun problema, poi dopo che il Presidente, se una delle differenze di vedute sono scambiate perché magari non andiamo d'accordo, questo non è un problema mio. Quindi i due giocatori che sono vicino a noi sono due italiani, di questo siamo felicissimi, ma li abbiamo scelti perché convinti che siano due buoni giocatori, perché se avessero avuto un passaporto comunitario e avessero avuto le stesse caratteristiche di Tenghe probabilmente avremmo presi, però a livello di tendenza c'è, senza essere, ripeto, un dogma. Quindi noi non diamo mai i numeri, voglio dire, ci limitiamo a far vedere ai giocatori i numeri libri e lasciamo scegliere i giocatori. Cosa velocissima per il Ministero a concludere. Questa è la politica aziendale. No, quando ci siamo visti col Presidente e con i Galliani ad Arcore abbiamo condiviso questa scelta, ringrazio Massimo che veramente in questi tre anni mi ha dato tanto e soprattutto l'anno scorso è stato, credo, un uomo importante, oltre che un giocatore, dentro lo spogliatoio, soprattutto nei momenti di difficoltà. Le auguro tutte le fortune del mondo, però dall'anno scorso quando la società ha deciso di fare una politica diversa e soprattutto di andare verso una squadra molto più giovane, piano piano sono andati in uscita quelli che i giocatori che avevano una certa età e quindi a Massimo un atto che ringraziarlo e soprattutto gli faccio un grosso in bocca al lupo per questa nuova stagione e soprattutto perché si è dimostrato, oltre che un grande giocatore, un grande uomo. Per vincere i campionati bisogna essere la miglior difesa e le statistiche lo dimostrano. Noi abbiamo vinto il campionato essendo la miglior difesa e l'Inter quell'anno lì fu il migliore attacco. L'anno dopo noi siamo stati il migliore attacco e la Juventus è stata la miglior difesa. Quest'anno la classifica è prima la Juventus che è la miglior difesa, secondo il Napoli che è la miglior difesa, la seconda miglior difesa, terzo il Milan che è la terza miglior difesa. E per avere grandi solidità bisogna avere degli ottimi difensori. Però a te puoi avere i quattro difensori più forti del mondo, ma se difendi in quattro o in sei è praticamente impossibile non prendere gore. Il capitano futuro sarà Riccardo Montolivo, ma è già comparsa sui giornali per anni. Sì, è già comparsa, Abbiati è totalmente d'accordo e quindi l'abbiamo messo anche nella cartellina. Va bene, va bene. Grazie. Grazie. Grazie.